qui in questo spazio appunto dedicato a noi, a me, a voi, a questa nostra interazione. Buonasera soprattutto a tutti gli sportivi che ci seguono in questo momento appunto di intrattenimento. Stiamo in tempo di quarantena, quindi in questo momento ancora molto molto particolare, dove perché no sentiamo ancora di più quello che è il peso di stare chiusi, tra virgolette, dentro casa. Noi cerchiamo di metterci del nostro, tenendovi appunto compagnia in questo spazio dedicato a uno scambio di conversazione. Abbiamo affrontato nelle tematiche precedenti argomentazioni legate al mondo dello sport e al mondo della nutrizione. E infatti a questo proposito, anche per la diretta che riguarda la giornata di oggi, di sabato, voglio andare a salutare il nostro carissimo amico e nutrizionista Salvatore Russolillo. Vediamo se è con noi. Buonasera! Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera carissimi dottore! Ciao, Uriella! Ciao, come stiamo? Bene, e tu? Come siamo formali oggi, ma che è? Quanto sei bello! Ma io, come stai a posto! Quanto è bello vederti ridere dall'altra parte della telecamera. Che aria tira a Napoli? Oggi c'è il sole, è una bella giornata, ci siamo fatti il pieno di vita. Assolutamente, e si vede, e si vede perché arriva. Abbiamo mangiato colorato per rafforzare le difese immunitarie, ci siamo allenati. Ti sei allenato questa mattina? Che allenamento? Mi sono sbarbato. L'ho visto, infatti vedo che sei tutto bello ripulito. Certo. Che allenamento hai fatto? Con il tutorial che mettete sulla pagina di EniTime Fitness, perfettissimo. Benissimo, benissimo. Infatti... Eh, guarda, guarda. Stamattina ho fatto plank per rafforzare la parete addominale e un po' di cardio. Bene, perfetto. Cardio come lo fai stando dentro casa? Ori, mi senti? Sì, sì. Dico, cardio come lo fai che stai dentro casa? Stando dentro casa faccio un po' di saltelli sul posto e un po' di saltelli sul posto, un po' di piegamenti per accelerare leggermente il metabolismo e per sudare un pochetto. Bene, quindi insomma evviva un po' di fantasia anche stando dentro casa, no? Ricordiamo... Sì, sì. Ok. Poi comunque i tutorial che mettete sulla pagina sono molto utili, quindi vanno bene. Bene, ti sento in questa diretta di oggi leggermente indifferita, è come se arrivasse poco poco dopo, diciamo, il tuo audio, ma non è un problema, riesco a capirti bene. Allora, ricordo nel frattempo, apro parentesi, per tutte le persone che ci stanno guardando in diretta in questo momento, se non l'avete fatto nelle volte precedenti, abbiamo attivato un canale su YouTube, quindi digitate dalla pagina di YouTube Anytime Fitness Valente, dove i nostri trainer della palestra di Via Valente caricano quotidianamente e giornalmente e delle sessioni di allenamento di 30 minuti dedicati a qualsiasi tipo di allenamento, quindi anche per coloro che sono un pochettino più pigri rispetto allo sportivo che pratica in maniera molto autonoma e didatta l'attività, sono video che si possono fare stando tranquillamente a casa e seguendo passo passo quelli che sono gli esercizi, perché ricordiamo l'importanza fondamentale in questo momento di rimanere in movimento. Giusto? Giusto Salvatore? Benissimo. Allora, vedo Salvatore con l'immagine un pochettino bloccata. Allora, vi dicevo insomma come stavo accennando poco fa, grazie ai nostri trainer, quindi Francesco, Monica, Egle, Anna, sono i nostri trainer che lavorano tutto l'anno all'interno della palestra di Via Valente e che ci tengono in questo momento appunto in casa compagnia, ci tengono in compagnia con quelli che sono i loro video di allenamento. Come ricordiamo da un po' di tempo a questa parte, è fondamentale, è importantissimo mantenere la tonicità. Non possiamo fare altro in questo momento stando dentro casa, perché? Perché abbiamo a disposizione un'attrezzatura che non ci permette di fare un lavoro di crescita muscolare, come invece può essere fatto all'interno della palestra con l'utilizzo di macchinari, di attrezzatura professionale, però possiamo mantenerci in forma e quindi possiamo sfruttare quella che è la nostra fantasia dall'utilizzo delle sedie, dagli sgabbelli che possono avere altezze differenti, l'utilizzo di bottiglie di acqua, un litro e mezzo, due litri, possiamo perché no utilizzare la legna, chi ha ovviamente la possibilità di averla all'interno di casa, per sfruttare diciamo quello che è il peso e quindi allenare qualsiasi muscolo. Grazie appunto a questi video tutorial che caricano quotidianamente i nostri ragazzi, i nostri trainer potete mantenere l'allenamento. È ovvio ragazzi che siamo all'inizio di aprile e credo insomma che ci sarà ancora tutta questa mensilità per rimanere dentro casa, ma come diciamo ormai da un po' di tempo a questa parte, allenatevi, sfruttate quelli che sono gli sparsi, cercate di rimanere in contatto con i vostri familiari, quindi cerchiamo di prendere il lato positivo di questo periodo di quarantena e di lavorare stando a casa, dedicandoci ai nostri affetti, alla nostra cucina e soprattutto all'allenamento. Allora, credo che abbiamo dei piccoli problemi di connessione perché non vedo più il nostro nutrizionista Salvatore, però vediamo se riesco invece a presentarvi un'altra nostra ospite carinissima che è in diretta con noi, anche lei il nutrizionista, e parliamo della dottoressa Elida Bardò. Vediamo se riesco ad avere in connessione con me Elida. Pronto, pronto? Elida ci sei? No, oggi mi hanno abbandonato tutti, in questa seduta dove avevo tantissime cose da proporre ai nostri carissimi nutrizionisti, invece no, mi ritrovo ad essere da sola, mi hanno abbandonato, quindi molto probabilmente devo fare botta e risposta da sola. Vediamo se dalla regia invece riesco ad avere un segnale, ok, mi stanno dicendo che ci sono appunto problemi con le connessioni, quindi aspettiamo un attimino. Allora, parliamo un attimo di quella che è la nostra pagina Facebook. Innanzitutto voglio fare un ringraziamento a tutti i soci della palestra di Anytime Fitness di Via Valente che ci seguono in questo spazio dedicato appunto a una comunicazione virtuale, una comunicazione a distanza, e voglio ricordarvi, così come facciamo sempre, l'importanza di esserci. Che cosa vuol dire? Io e la mia collega della palestra Anytime Fitness Valente, Karen Romanelli, che saluto anche stando insomma in diretta in questo momento, abbiamo sempre quelli che sono i dispositivi portatili della palestra per lavorare da casa, quindi il numero della palestra, il numero cellulare, il numero mobile che è il 391 364 7756 è il numero della palestra che gestisco io personalmente, quindi se avete domande inerenti alla modalità dei pagamenti, a quelle che sono le vostre perplessità, fate una telefonata, dalle 10 alle 8 e 30 di sera il telefono è reperibile, così come potete mandare delle mail all'indirizzo di vostra elettronica valentechiocciolaanytimefitness.it rispondiamo a tutte le vostre domande, ok? Quindi detta, fatta questa premessa, vediamo se riesco a ripristinare il collegamento con Salvatore, forse è un orario quello di sabato un po' complicato. Ciao Salvatore, eccoti qua di nuovo. Ah, finalmente mi rivedete. Ti rivediamo, ma io ne ho approfittato per dare delle chicche riguardo alle informazioni per tutti coloro che ci stanno seguendo. Ma ci saranno problemi di collegamento evidentemente. Sì, 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 non è un problema. Senti un secondo. Allora. Allora. Siamo in primavera inoltrata, finalmente. Sì, sì. E anche se stiamo a casa, cerchiamo di mangiare bene, di farci la nostra mezz'oretta, tre quarti d'ora di allenamento, con quello che troviamo in casa. Prima mi avevi chiesto come facevo cardio, e come facevo a sostituire il bilanciere, che non ho ovviamente allenandomi in palestra. Mi prendo le mie classiche bottigliette d'acqua, ci metto un po' di scotch da due litri a due litri, così almeno faccio quattro chili di peso per parte, così faccio il mio allenamento quotidiano senza abbandonarlo. Bene, bene, è importante, no? Eh, a voglia. Abbiamo detto che in cucina ci vuole tanta fantasia, ma ci vuole anche fantasia nell'ingegniarci nell'allenamento. Certo, perché è ovvio che in una struttura sportiva troviamo tutto quello che è l'attrezzatura edonea. Certo. Però, non avendola a disposizione, ingegniamoci con la mente e cerchiamo di utilizzare gli attrezzi che abbiamo a casa. Necessità fa virtù a casa mia, si dice. Esatto, esatto. Come dicevano i latini. Allora, io direi, visto che siamo in più, era inoltrata, di parlare un po' di colori e alimentazione. Ti ricordi, nelle dirette precedenti abbiamo detto che ogni frutto può essere, ogni, scusami, ogni frutto, sì, e ogni ortaggio può essere associato ad un organo del corpo. Così anche i colori rispetto all'alimento che predileggiamo rispetto al colore abbiamo funzioni diverse. Per esempio, in questo periodo, per rafforzare il sistema immunitario, cerchiamo di mangiare tutto ciò che è rosso e arancione, in modo che andiamo a rafforzare il sistema immunitario perché è più ricco di vitamina C. Per esempio, gli alimenti arancioni aiutano, peraltro, anche a prevenire i tumori, quindi il cancro. Il rosso, invece, è il colore del cuore, del fuoco, quindi accelera anche leggermente il metabolismo rispetto ad altri alimenti. Il giallo, quindi tutto ciò che è giallo, dai frutti agli ortaggi, alle verdure, servono per fortificare l'elasticità della pelle, per esempio. O il viola, che serve per incrementare la longevità. Tutto ciò che è viola aumenta la vitalità delle persone e quindi allunga anche la vita. Tutto ciò che è bianco, invece, rafforza il sistema immunitario in generale. E tutto ciò che è verde va a fortificare l'organismo e a disintossicare l'organismo. Ti faccio un esempio. Forse più calza di più. Che dici? Per esempio, se noi prendiamo una carota, le carote sono ricche di vitamina A che favoriscono la vista. Se noi la tagliamo a metà, la carota, e guardiamo all'interno della carota, noteremo che c'è un piccolo iride. ecco perché parlavo di assonanza tra ortaggi e organi. Il pomodoro, se lo tagliamo a metà, all'interno del pomodoro, se lo guardiamo bene, ha la forma delle camere cardiache. Quindi il pomodoro va a rinforzare tutto quello che è la pompa cardiaca. Le noci, come dicevamo, hanno la forma... Madonna, incredibile! Incredibile! Le noci, che hanno la forma delle circunvoluzioni del cervello, aiutano e contribuiscono a... Ti sento un po' attratti, però ti sento un pochettino... Salvatore, ci sei? C'è di neurotransmettitori, quindi è... Ok. Allora, vedo... Non è utile mangiare almeno... Scusami, Salvatore, se ti interrompo... Al volo, al volo, al volo, ti interrompo perché vedo in diretta con noi la nutrizionista, la nostra carissima dottoressa, e lì da Bardone... Ariella, buonasera! Ma come stai? Ma come sei bella? Cavolo! Non mi ricordavo, né? Ridi! C'è il sole, c'è il sole e... Il sole mi mette... Guarda che a Roma è bello! Io lo dico sempre. A Roma è bello, io però sono in Abruzzo. Io sono in Abruzzo e anche qui oggi c'è una buona temperatura, anche se l'arietta è fresca, però l'importante è il sole. Io lo dico sempre, sono un po' come un lupo. L'inverno vado in letargo, quindi l'inverno mi incubisce un po'. Quando inizia ad arrivare il bel tempo... Non sei l'unica. Non sono l'unica, vero? A tutti capita, quindi... Come va? Come stai? Benissimo! Assomiglio molto a una casalinga disperata, disperata, però va bene. Non ti ci ritrovi nello stare dentro casa, Elida? Ascolta, io sto sempre dentro, però almeno lavoro dentro lo studio. Insomma, non è che faccio chissà che cosa, però almeno lavoro. Cioè, diciamo che star dentro non mi pesa. Mi piacerebbe un attimo uscire, oltre a lavorare in primis, però anche uscire mi manca un po', perché io sono una camminatrice, una che corre. oggi sono andata alla posta, ho pagato una voletta e ho fatto 4 chilometri, perché l'ufficio postale è il più vicino, aperto. Quindi, capisci, mi è stata una cosa meravigliosa oggi. Certo, certo. Ricordiamo sempre a tutti coloro che ci stanno seguendo di uscire con la maschilina. Sì, con i guanti, poi alla posta ti danno direttamente il gel per lavarti le mani, quindi non hai nessun contatto con nessuno che sta lì dentro. Capito? Comunque, questo è stato l'evento del giorno oggi. Benissimo, quindi, insomma, da buona nutrizionista abbini quello che è l'attività sportiva con una buona alimentazione. Soprattutto, nessuna delle due valle da sola, quindi senza la nutrizione sana e gramata e ridotta alle giuste quantità non puoi andare, cioè puoi fare non so quanti chilometri di corsa, però, insomma, la pancina te ce l'avrai, quindi, diciamo che vanno a pari passo, ecco. Benissimo. Oggi sono onorata perché abbiamo non uno, ma due nutrizionisti, quindi mi sento molto coccolata da un punto di vista alimentare, vi posso dire? Povera, guarda che la prossima volta ti pesiamo, ne? E io non vi nascondo che prima di questo periodo di quarantena ho iniziato un percorso un pochettino più controllato a livello alimentare che, ahimè, sto portando avanti con un po' più di difficoltà, no, rispetto all'inizio, perché comunque siamo H24 dentro casa e come diciamo sempre la tentazione di mangiare quel qualcosa in più è forte, però se uno ha una regola e un obiettivo comunque ci si riesce facilmente. Ah, quanto pesavi oggi? Allora, oggi non mi sono pesata, però ti posso dire che già, proprio oggi non ti sei pesata? No, all'altro ieri avevo lo stesso peso della settimana scorsa di cui ti parlavo. Però, bene, almeno non hai accumulato, sei stata brava. Esatto, esatto. Continuo appunto ad allenarmi un giorno sì, un giorno no, come accennavamo con Salvatore nella diretta precedente, perché è importante anche dare il giusto riposo al nostro corpo e insomma diciamo che dobbiamo prendere quelli che sono tanti aspetti positivi di questa quarantena, no? Quindi è importante proprio mentalmente autoregolarci, che ne dite voi? Giusto. Parla Sassi o parlo io? Elida. Ok, sì, sicuramente. Diciamo che dopo i primi dieci giorni un attimo l'ho sentito cioè quindi star ferma, star chiusa, star sola, l'ho sentito un po'. Mi è venuto un attimo, sai la cosa di aprire e chiudere il frigo 20 volte, ma se vuoi ti posso aprire il mio frigo e non c'è nulla e dopo un po' la tentazione mi è passata, ho cominciato. È il segreto, il segreto di questa quarantena non avere niente. No, un casino di robe su gelate. Quindi anche se ti viene la voglia, comunque la devi cucinare, cioè non so, il minestrone va fatto, le lenticchie vanno cucinate e via dicendo, quindi la cosa ti passa. Poi però una mia amica psicologa mi ha detto Elida, quando ti viene sta roba così o ti metti a contare fino al limite X, non definibile, ognuno ha il suo limite, o ti rilassi un attimo. Emma ha insegnato delle tecniche. Diciamo che mi sto un attimo calmando. Bene, bene, perché poi c'è una sorta di adattamento. Brava, bravissima. Siamo comunque degli animali, rimaniamo degli animali e c'è un adattamento da parte del nostro corpo, quindi stato fisico e stato mentale riguardo a una situazione, no? Bravissima, bravissima, è che ci aiuterebbe un pochino se avessimo una data, cioè perché se noi siamo abituati o abbiamo quella data possiamo uscire, possiamo andare a lavorare, questo ci aiuterebbe tantissimo, però ecco, vabbè, bisogna avere pazienza. Assolutamente. Un'altra cosa nuova che abbiamo imparato con questa quarantena è la pazienza. Assolutamente, assolutamente. Tanti di noi non ce l'avevamo. Sì, saluto Francesco e Jessica che ci stanno seguendo in questa diretta, ovviamente io sollecito tutte le persone che ci seguono a fare delle domande ai nostri carissimi dottori nutrizionisti che sono presenti in questa diretta con noi. Con Salvatore parlavamo dell'importanza dei colori, degli alimenti e di quello che l'ho notato. Grazie, grazie. Lui oltre ad essere un dottore è un artista perché poi mi manda le foto dei suoi piatti e io dico oddio ma c'è un hamburger da mangiare la patata Alessa io non lo so. Ci vuole tanta fantasia in cucina. Volete che scleri io di qua? Perché l'occhio vuole la sua parte. la decorazione di un piatto vuole la sua parte è vero? Quanto è impattante. Ma anche la pazienza non solo l'occhio. Vi posso dire un mio pensiero che da quando ho iniziato tutto questo periodo di quarantena le mamme che si ritrovano in cucina in questi 30-40 giorni insomma ad affrontare comunque un percorso importante nel senso fino a quando uno si deve cucinare per se stesso ci sono delle limitazioni ma quando devi portare avanti insomma devi apparecchiare una tavola per una famiglia che è di 4 persone in media comunque credo che non sia così semplice voi da nutrizionisti vi sentite di dare dei consigli alle mamme che ci stanno seguendo? Oriella mi senti? Sì Ah perfetto pensavo non mi sentissi più Avete sentito la mia domanda? Sì 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 Prego prego chi vuole rispondere prego vi lascio a voi la parola Allora io il consiglio che posso dare alle mamme è sicuramente di cercare di variare in cucina quanto più è possibile e di coinvolgere soprattutto se hanno i bambini piccoli nella cucina vera e propria anche perché la maggior parte dei problemi a livello alimentare con i bambini è proprio questo soprattutto per chi ha problemi con i bambini che non mangiano le verdure e di coinvolgerli a cucinare a pulire le verdure in modo tale che vengono anche così invogliati ad avere un'alimentazione più equilibrata e più variegata non so se Elida è d'accordo con me super d'accordo non d'accordo sì non è facile farle mangiare ai bambini le verdure esatto anzi è proprio un'impresa e quindi l'unico modo è questo coinvolgerli perché perché i bambini odiano le verdure e tutto ciò che è verde c'è una spiegazione a tutto questo è una domanda guarda la spiegazione è che purtroppo non hanno sapore sì purtroppo sono insapori e poi anche perché per la fretta dei genitori le verdure vengono comunque cucinate in maniera veloce senza dare un gusto oppure non vengono cucinate per niente quindi diciamo è anche un po' per come vengono ahimè tentati i piatti ahimè ok infatti infatti poi si rischia soprattutto per tutti tutti coloro che vivono nelle grandi città e che con la frenesia si cucina sempre meno quindi si predilige il confezionato tutto ciò che è quasi pronto ahimè si rischiano di perdere l'abitudine di cuocere tutto ciò che fa bene quindi tutto ciò che è verde giusto dottori giustissimo giustissimo sì ora non vedere ora che tutti abbiamo tempo di andare a fare la spesa ma quante volte io e te ci siamo visti e non abbiamo bambini prima di questa quarantena quindi ecco appunto quindi non è facile anche lì diciamo che fare la mamma tante mamme lavorano quindi è uno dei lavori più duri che esistono al mondo secondo me è capito bene e infatti non a caso ecco da questo periodo di quarantena le persone si stanno riscoprendo in cucina no? quindi indirettamente secondo me si stanno dedicando nel darsi comunque la cucina è un modo per comunicare l'amore verso un familiare quindi ti cucino qualcosa cioè cucino qualcosa di buono mi metto all'opera per te secondo me è un grande gesto per dimostrarti l'amore stop sì infatti quando vuoi lo puoi fare oriella puoi venire a casa mia io non sono una di quelle che cucina molto a proposito allora di queste belle risate che ci facciamo insieme parliamo un attimo di prima di parlare di dolce e salato perché so che con voi oggi abbiamo preparato un paio di ricette per dare così a livello di consiglio alimentare alle mamme ma non solo alle mamme a tutti coloro che comunque stanno in casa e cucinano io voglio lanciare in questo momento in diretta con voi una challenge Salvatore se tu sei d'accordo ascoltami perfetto la prima persona che nella nostra conversazione quindi nella diretta mi lascia il numero di telefono ovviamente abbiamo riservato per questa persona una una scheda e comunque un'analisi che comprende una valutazione quindi a livello di misurazione e sentire quindi con una mini intervista quelle che sono le varie abitudini alimentari alimentari della persona per poi arrivare a fare una vera e propria dietra o comunque uno stile di vita uno stile nutrizionale giusto per questo periodo quindi lanciamola che ne dite Salvatore ci vogliamo provare? io direi due persone allarghiamola a due persone un maschietto e una femminuccia bene bene mi piace ancora di più questa cosa quindi vediamo se ripeto qualcuno di voi che vuole appunto sperimentarsi in una corretta alimentazione perché parliamo di corretta alimentazione in questo periodo a lasciarci un numero di telefono quindi le prime due persone il maschietto e una femminuccia che vogliono fare questa cosa perché no possiamo anche chiamarli in diretta fargli un saluto un saluto telefonico vediamo vediamo un attimo se qualcuno di loro è pronto per quanto riguarda invece la cucina che abbiamo preparato oggi un paio di ricette e vorrei analizzarle con voi va bene li abbiamo preparati io e Lida no no lui 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 mi dar meriti che non ho quando vorrai a Roma li mangerò da quella dolce da quella dolce Salvatore partiamo dalla colazione va ok che cosa c'hai preparato allora abbiamo preparato una torta di mele ovviamente facendo delle varianti in modo da renderle un attimino più light e da poterla insomma mangiare tranquillamente la ricetta prevede prevede non prevedeva la farina e noi l'abbiamo sostituita la farina bianca e noi l'abbiamo sostituita con la farina di avena in accordo con la dottoressa in modo da abbassare anche la percentuale di carboidrati e quindi alzarla in proteine abbiamo sostituito il burro con dell'olio in modo tale da abbassare poi la quota di colesterolo presente all'interno della ricetta e quindi mettendo insieme le giuste combinazioni e gli giusti ingredienti è venuta fuori una bella cosetta che Elida poi ci ha calcolato la composizione di macronutrienti di ogni singola fetta da consumare vero Elida? sì allora abbiamo fatto per otto persone abbiamo preso una famigliola di otto persone quindi ha preso biscotti integrali cento grammi quindi sono per otto persone olio 50 grammi quindi 5 cucchiai ok poi mele 6-7 mele 8 mele quanto ne avete più sul verde sono meglio è il latte meglio se scremato sono 200 grammi quindi due bei bicchieri avena 200 grammi e la marmellata quella ridotto tenora di zuccheri o quella cosiddetta light io non sento nulla però in questo momento quindi a persona abbiamo 255 calori mi senti tu? sì io ti sento ok quindi come avevamo deciso tu senti me calcolato sono 250 calorie a persona perfetto con un apporto proteico di 6,3 grammi di proteine di lipidi ne abbiamo 10 e di glicidi ne abbiamo 3 quindi no scusa 39 quindi diciamo che una fetta può andare benissimo per una bella colazione chiaramente magari non tutti i giorni specialmente chi sta facendo una dieta chetogenica non è adatta già quindi però per il resto una bella fetta va bene io direi non tutti i giorni però ecco metti che siate in otto in una casa ognuno una fetta e fatta la la colazione ecco ma diciamo che per chi segue un regime da dieta mediterranea o ipocalorica la può tranquillamente assumere sì perché apporta 250 calorie perfetto a fetta benissimo no no bene e poi qui abbiamo messo la farina d'avena che come dicevi te non solo che ci ha abbassato i carboidrati ma ci apporta anche un indice glicemico molto basso come farina ci aiuta ad avere una glicemia bassa ci aiuta a avere anche ci aiuta a tenere il colesterolo basso il tuo controllo bravissimo quindi in qualche modo la farina d'avena lo possiamo anche consigliare per ulteriori colazioni direi io tipo i pancakes piuttosto che insomma le fette biscottate e marmellano non è male come dice poi diciamo che l'avena contiene la vitexina che è una proteina che aiuta anche il rilassamento psicosomatico perché fa rilasciare la serotonina rispetto già e poi aiuta anche andare in bagno chi ha problemi di intestino soprattutto comunque è una buona colazione eh sì l'altro piatto cos'era? era abbiamo preparato una ricetta che può essere utilizzata sia a pranzo che a cena di questa ricetta io ne faccio due versioni una per chi segue un regime chetogenico e una invece per chi segue una tranquilla dieta ipocalorica o una dieta mediterranea perché la versione parliamo prima della ricetta e poi dico le due versioni già già allora gli ingredienti che abbiamo utilizzato sono stati i broccoli che sono detossinanti per l'organismo e contengono sostanze che prevengono anche il cancro e quindi le malattie degenerative da quel punto di vista abbiamo utilizzato parmigiano uova e prosciutto cotto abbiamo in modo tale da avere un giusto piatto bilanciato e in bassi carboidrati e in altre proteine per chi segue la dieta chetogenica per chi va cotta al forno ovviamente per pochi minuti per chi invece vuole fare la variante e per chi segue la dieta mediterranea io faccio prima un letto di patate poi faccio un letto di broccoli ci metto e poi dentro ci metto il prosciutto una spolverata di parmigiano l'uovo e lo cuocio al forno che viene buonissimo lo mangeremo nella versione chetogenica esatto che forse è meglio così lo mangia anche Auriella assolutamente allora guarda questo piatto questo piatto che ha fatto Salvador è meraviglioso perché porta 300 calorie quindi lo puoi fare anche te cara Auriella con a persona metti ora non so quanti sei quanti persone siete a casa 200 grammi di broccoli ciascuno quindi è una bella quantità ok poi ci metti un uovo a testa ok poi 20 grammi di parmigiano Auriella sono due cucchiai ok poi prosciutto cotto magro 50 noi abbiamo messo 50 grammi però ognuno può mettere anche meno se vuole comunque due fette via certo dipende quanto è spessa se non piace il prosciutto cotto possiamo sostituirlo con la fesalità certo certo quindi questo piatto apporta 31 grammi di proteine quindi io ho un pasto proteico completo per il pranzo ho i grassi a 17,96 e gli zuccheri i glicidi ne ho 7 quindi è perfetto per la ketogenica non solo di solito i broccoli hanno questa problematica essendo molto fibrosi per chi soffre un po' di colite o di meteorismo ha un po' di difficoltà nel digerirli il problema o il bello in questo caso è che Salvadore l'ha frullato quando la roba è frullata le fibre comunque si sono un po' rotte si sono spezzate e almeno vengono digerite ancora meglio anche per chi ha problemi di colite benissimo vedi sono piccoli accorgimenti che comunque fanno molto perché uno a volte rischia di non comprare determinati alimenti proprio per questo problema ecco mai fare questa cosa perché nel senso la colite è una condizione è una patologia abbastanza diffusa multifattoriale però se ci sono dei cibi se te sei intollerante al latte che ti è stato diagnosticato da un laboratorio da un'ospedale da un'ospedale allora è un conto perché ormai la gente ti viene e dice no ma io sono intollerante al latte come hai fatto a saperlo no no perché quando lo mangio mi fa male allora io dico sempre una roba siamo i dottori di noi stessi quindi se a me una roba mi fa male aspetto un po' giorni prima di mangiarla di solito 48 barra 72 ore quando poi la introduco la introduco da sola quel tipo di alimento da solo quel tipo di alimento per vedere se effettivamente mi fa male oppure no perché se ci mangio broccoli e fagioli magari dore la colpa ai broccoli piuttosto che ai fagioli capito che voglio dirti si fa una vita d'esclusione bravissimo bravissimo c'è una domanda direttamente per voi le verdure contengono carboidrati sfatiamo questo mito certo certo che contengono carboidrati non una quota eccessiva ma una piccola quota di carboidrati ce l'hanno poi dipende ovviamente dal tipo di verdura attenzione infatti possiamo possiamo mettere è un contesto che consideriamo il broccolo hanno una quota di carboidrati diversa qual è la verdura che diciamo erroneamente le persone mangiano pensando vabbè tanto tanto a verdura posso mangiarne quanta ne voglio e invece contengono tanti carboidrati perché ci sono tutte tutte vero però c'è una con la cosa i pomodori e le carotte sono ancora peggio che te lo dico fare delle cipolle però pomodori carotte cipolle zucca la zucca quindi ora oddio io non lo so se uno non ho mai visto se non manano che si mangia un chilo di verdure si mangerà 200 grammi esatto quindi va più che bene quindi si può usare nella chetogenica come domanda ma scherzi assolutamente sì ritornando nel discorso che facevamo con Salvatore prima riguardo ai colori delle verdure mi avete appena detto che tutto ciò che ha una colorazione sul rosso sull'arancio sul giallo oltre a contenere la vitamina C e D se non sbaglio giusto la vitamina C e la e la poi dipende dalle verdure benissimo benissimo quindi sono tutte quelle verdure che hanno i disegni no al loro interno effetti collaterali se assumiamo troppe fibre è proprio questo che dicevo specialmente se si ha un colon irritato l'effetto collaterale è quello che ti verrà ti si infiammerà il colon ti verrà il gonfiore il meteorismo per quello che io a volte ai miei pazienti quando hanno sono nella fase acuta do solo per esempio le zucchine o l'esse o passate perché sono molte acquose e non hanno la fibra dura tipo quella dei broccoli o dei carciocchi o degli asparagi anche quindi ecco quindi in questo caso è il nutrizionista che ti deve seguire e indicare andare per gradi ad inserirle mano a mano che il colon va meglio se si infiamma sei d'accordo Sassi? Sì d'accordissimo anche perché spesso il colon irritabile può anche nascondere patologie più gravi quale la di verticolite o la di verticolosi quindi in quel caso le fibre vanno completamente eliminate quindi insegnare al paziente come assumerle tipo le verdure a foglia lunga per chi soffre di questo tipo di patologie le può mangiare ma vanno spezzettate e tagliate proprio per rompere le fibre in modo tale che non si hanno problematiche ok insomma c'è tanto da apprendere e tanto da imparare da tutto quello che mangiamo e a volte non lo sappiamo in maniera così sbagliata anche perché ci sono purtroppo molti miti per quanto riguarda la nutrizione tutti leggono su internet quando Elida converrà con me che la nutrizione è una scienza e come tale deve essere fatta da chi l'ha studiata assolutamente concordo sulla vostra professionalità assolutamente ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo che abbiamo appunto aperto una challenge prima con Salvatore e niente chiunque volesse partecipare lasciando il numero di telefono è ovviamente ospite del nostro carissimo nutrizionista Salvatore che grazie a quella che è appunto la sua professionalità vi riesce a seguire in un percorso alimentare Salvatore ci sei? Sì sì sono qui eccoti eccoti vediamo se qualcuno ha il coraggio di scrivere il proprio numero di telefono per poter iniziare insieme a te questo percorso ma nessuno ancora avanti e ancora no e allora sono belli perché io credo che come dicevamo prima nel discorso le mamme tra virgolette un pochettino si auto escludono in questo momento no perché ahimè sono quelle che forse fanno più fatica a gestire loro stesse cioè sono più per la gestione familiare quindi forse più il ragazzo il ventenne anche perché no il papà riesce a a fare a fare questa questa cosa vediamo vediamo se nell'arco di questa diretta vogliono mettersi in gioco insomma ma io penso che le ricette che avete consigliato ricordiamo sono buonissime perché le abbiamo comunque provate e soprattutto ricordiamo l'importanza di fare qualcosa fatto da noi con le nostre mani e quindi evitiamo di prendere tutto ciò che è imbustato no la merendina della mattina anche se pur di marca rispetto al sottomarca è comunque sempre imbustata eh certo i grassi transindustriali fanno malissimo all'organismo mi senti? bene 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 sì sì mi sento a proposito a proposito di 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 diretta io voglio fare una cosa che non abbiamo mai fatto prima perché oggi è una giornata particolare e tanti di noi in questi giorni stanno festeggiando il loro compleanno stando a casa stando da soli senza avvalersi della compagnia e dell'amicizia di degli amici no? anche comunque anche tu anche tu io voglio fare una cosa in diretta insieme a voi insieme a te Salvatore insieme a Elida voglio chiamare una persona facciamo insieme a questa persona gli auguri di compleanno perché credo che faccia molto piacere datemi un secondo di tempo arrivo subito da voi allora eccomi qua io sono pronta ok sono andata a prendere il telefono faccio con voi questa telefonata vediamo se questa persona ci risponde ok ok allora allora sì pronto con chi parlo pronto 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 c'è qualcuno lì dietro pronto sì pronto c'è qualcuno c'è qualcuno che ci sta sentendo in questo momento dietro il telefono pronto pronto posso parlare con Martina certo ciao Martina ciao tanti auguri di buon compleanno grazie Martina noi ti mandiamo in diretta da Facebook un bacione virtuale per questo tuo compleanno come lo stai passando bene bene sei sicura bene bene sì sì sei in compagnia di chi vabbè della mia famiglia e della mia nuca e di mia mamma ok ok senti ma ci dici quanti anni compi oggi 12 12 anni quindi presumo che ci sia anche un dolce per festeggiare questo compleanno che dolce è è una torta che ha fatto male lasciacene un pezzetto anche a noi perché quando quando finisce tutto questo questo momento di 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 buon allora salvatore auguri ciao che carine che carine insomma eh 12 anni stare in casa e festeggiare il compleanno è tosta eh sì è tosta quindi mi piaceva l'idea di fare questa questa cosa questa chiamata in diretta hai fatto benissimo bene 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 e l'ida non so se se è ancora con noi non la vediamo più purtroppo eh così è risaputo che abbiamo un po' di problemi con le connessioni ma perché siamo tutti legati a questo passatempo quotidiano che è quello di internet quindi ci raccomandano di eh di badare anche al consumo di una connessione per evitare proprio questo ma ahimè insomma eh sfido chiunque a stare dentro casa e a non utilizzarlo eh Salvatore oggi è sabato ti ricordi sabato scorso abbiamo fatto la diretta e c'era in compagnia nostra uno dei soci della palestra Lorenzo Gallo sì che era la serata della pizza della pizza quindi stasera pizza integrale stasera pizza integrale stasera pizza integrale che cosa ti sei preparato ho fatto il mio impasto per la pizza semi integrale ovviamente perché se la fai solo integrale non ti cresce bene quindi io faccio metto più farina integrale una parte di farina bianca e non la farò con la mozzarella e il pomodoro ma la farò leggermente per proteica con la bresaola pacchino e rucola e scaglie di parmigiano benissimo proprio perché rientriamo nel concetto del contrasto tra la basicità e l'acidità degli alimenti l'alimento bene queste sono tutte chicche che abbiamo imparato in questo momento di quarantena quindi insomma evviva anche i consigli che ci arrivano in questo momento è certo bene 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 allora ricordiamo a chiunque appunto ci stesse seguendo in questa diretta che noi il martedì il giovedì e il sabato cerchiamo di farvi compagnia in 30 minuti affrontando come abbiamo fatto oggi in molta tranquillità diverse tematiche quindi dall'alimentazione consigli alimentari cosa mangiare cosa prediligere cosa evitare se possiamo certo e anche qualcosa per favorire relax come parlavamo in questa settimana che è trascorsa quindi non solo relax fisico ma anche relax psicologico e se possiamo farci utilizzando i giusti alimenti perché no così favoriamo anche il sonno bene 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 quindi insomma aiutiamoci anche tanto con delle tisane con tutto ciò che comunque benissimo valeriana come dicevamo bene assolutamente e soprattutto ricordiamo a tutti l'importanza di un buon allenamento stando in casa ci si può allenare ci si può allenare con un po' di buona volontà certo noi ci mettiamo del nostro e quindi vi consigliamo di cliccare semplicemente su una pagina di fitness che è la pagina anytime fitness valente che trovate su youtube e quindi vi ricordo che i nostri trainer quotidianamente mettono a disposizione dei tutorial affinché voi possiate comunque ripeterli stando semplicemente a casa utilizzando quello che avete abbiamo certo bene non so se l'ida è con noi vediamo si mi sento forse non c'è non è un problema le mandiamo insieme un carinissimo saluto e la ringraziamo di questa compagnia appunto che ci ha fatto nella diretta sperando appunto di ricollaborare insieme in una in una successiva diretta salvatore io ti lascio alle buon sole di napoli io ti lascio al buon sabato sera ricorda sempre quello che dico mangiate bene sgarrate con criterio e siamo in quarantena e non a master chef e ogni tanto togliamoci togliamoci assolutamente sì assolutamente sì ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito speriamo insomma che riusciamo con questa pagina ad ampliare insomma a pomparla sempre di più di ascolti affinché possiamo appunto mantenerci in contatto con voi e ad entrare nelle vostre case salvatore ricordiamo anche che il contest è ancora aperto quindi se arrivassero richieste anche in privato con te e poi tu mi giri i contatti benissimo vi ricordo che siamo sempre attivi sul cellulare della palestra al 391 364 7756 e alla mail valente chiocciola anytimefitness punto it non vi dimenticate perché noi a distanza ci siamo con voi sempre va bene grazie salvatore grazie a voi un bacio virtuale a te e un bacio virtuale a tutti coloro che ci stanno seguendo ciao a tutti buona serata ciao